Don Gaspare Bertoni svolge una delle sue prediche giovanili più impegnative, illustrando la connessione che esiste fra la vita cristiana e il battesimo. Il titolo della predica è La vita spirituale. Quando un libertino diventa casto, un avaro misericordioso, un iracondo mansueto, avviene allora qui una risurrezione che è principio della futura. E com'è risurrezione? Morto è peccato e risorge la giustizia, cancellata la vita di prima, e questa nuova e angelica vita quasi rifiorisce. All'udire vita nuova cerchi ognuno in sé molta diversità, mutazione grande.